Il canto del gallo Secondo me oggi non è una giornata sosta a meno che insomma il presidente Paparezza non esoneri manga perché chiaramente sono due o tre partite che la squadra non gioca per nessun allenatore che è una cosa anche vergognosa Dov'è il rispetto per i tifosi che hanno fatto bel 11.000 abbonamenti? Dov'è? 120 km da Locorotondo in provincia di Bari per vedere questo scempio Io prima che mangia se ne vada gli volevo chiedere solo una cosa ma com'è possibile far tirare calcio d'angoli e punizione salviato? E la punizione dà limite a Contini, difensore centrale se c'è in campo galano, donati Sono Guido da Bari, stiamo tornando dallo stadio Una vergogna Penso che altre parole non si debbano dire Una vergogna, una vergogna infinita perché vedere gente come Stojan regalare palloni agli avversari con quella supponenza, quella superficialità è veramente una cosa vergognosa Poi onestamente quando un allenatore si presenta con la difesa a tre vuol dire che comunque è in difficoltà, non ci ha capito molto il ritiro è servito solo per farsi una scampagnata come dicevano oggi in curva Ti prego di concludere Giuseppe, prego Si è sudato l'abbonamento che fa, va a prendere solo delusioni allo stadio Ti ho dato fiducia ma non vedo niente Mangia prima di tutto non attenuanti per quanto riguarda tutto quello che sta facendo Ha fatto una squadra tutta sua, dall'inizio del campionato non si è visto il gioco Quindi io se fossi in Mangia stasera la prima cosa che farei è dimettermi Il canto del gallo